Dunque mi ritrovo a rispondere a una del signor Paese, riguardante la mia persona, che fa riferimento a un percorso giudiziario che riguarda le giunte giudici e Ganao del 2007, un ipotetico abuso d'ufficio. Io vorrei riguardare che al riguardo siamo ancora in fase di udienza preliminare e come tutti sanno nell'udienza preliminare si valuta esclusivamente se il materiale produttorio del Pubblico Ministero è idoneo oppure no a corroborare l'accusa poi al dibattimento. Cioè dobbiamo dimostrare tutte 22-23 in dati al gruppo l'inconsistenza dell'accusa. Io voglio ricordare al signor Paese che uno degli esiti può non esserlo procedere e vorrei ricordare ancora al signor Paese che si definisce uomo garantista ed è uomo di legge che in sede di Civile sia l'amministrazione provinciale sia l'amministrazione comunale di Sassari sono già state assolte. Ma ritengo che non sia questo il punto. Io ritengo che il signor Paese abbia in maniera surrettizia e direi anche un po' indecente introdotto un argomento, il mio nella fattispecie, partendo dal presunto giustizialismo della sinistra. E' chiaro che ognuno ha il suo stile e il signor Paese ha deciso di avere questo stile. Lui probabilmente nel lagone politico utilizza la clava e poi probabilmente va in giro nel suo ambiente a dire quanto è bravo. Io rispetto a lui ritengo di avere ben altro stile e non posso che replicare come farò con ironia cercando di essere anche il più pungente possibile. La ritengo una cosa che è surrettiziamente a tutti i crismi dell'indegnità politica e quindi la rispedisco assolutamente al mittente. Mi riserverò poi di rispondere, non in tutte le sedi perché non mi ha sicuramente offeso, ma potrò rispondergli scrivendo. E spero che abbia anche il buon gusto di non replicare quello che io dirò. Grazie.